Sicuramente notiamo anche noi una forte vivacità, ancor più nel numero degli ordini, quindi delle teste, delle persone diciamo, che ordinano online rispetto ai ricavi, ai fatturati. C'è una tendenza a fare ordini più frequenti, magari più piccoli ma più frequenti, quindi dal nostro punto di osservazione confermo assolutamente i dati che sono stati forniti questa mattina da Roberto Liscia, Contact Lab e dall'osservatorio del Politecnico. La sensazione è che le categorie che stiano crescendo siano quelle delle donne e poi per quanto riguarda gli anziani vorrei dire che forse è anche perché mano a mano la popolazione che ha iniziato ad acquistare su internet via via invecchia e quindi è abbastanza naturale che a un certo punto consolidandosi quegli acquirenti andando avanti negli anni l'età media tenda ad aumentare. Credo che aiuti invece molto nell'avvicinamento del pubblico più giovane all'acquisto online la diffusione di queste carte prepagate che sicuramente danno anche ai ragazzi quella possibilità di acquisto online che prima magari non avevano o avevano in misura molto inferiore. C'è un dato generale che è un dato di aumento della lettura tra i giovani, questo è un dato indipendentemente dal fatto che i libri siano libri di carta, che siano ebook. I ragazzi di oggi leggono di più, leggono di più, forse sono anche più abituati alla parola, se vogliamo anche a scrivere perché in ogni caso è la diffusione insomma a un certo punto anche di grandi community come Facebook. Comunque abitua i ragazzi a leggere e a scrivere come gesti quotidiani, mentre prima invece avevano un atteggiamento sostanzialmente passivo nel loro tempo libero davanti magari alla televisione. Secondo me questo probabilmente è uno dei fattori che ha aiutato molto un po' questo risveglio diciamo dell'abitudine alla lettura nelle giovani generazioni. Poi naturalmente essendo i giovani particolarmente predisposti anche a svolgere qualunque attività con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, va da sé che sicuramente li trova come il pubblico diciamo più predisposto poi alla diffusione anche dei lettori di libri in formato ebook.